buongiorno frioli anche da parte della redazione sportiva lunedì 29 gennaio 2018 un buon lunedì per l'udinese reduce dalla vittoria sofferta molto ma anche meritata nel secondo tempo contro il genoa di balardini un ritorno alla vittoria la prima vittoria del 2018 a cui fa da contraltare invece un pomeriggio una serata anche nera per la gsa ma parleremo in questa ora insieme oltre a tutti i campionati dilettantistici con i collegamenti nella seconda parte dall'edicola di cussignacco parleremo molto anche di serie a perché ieri è stata un po' una domenica nera per il var avremo anche alcune dichiarazioni sopra le righe di allenatori che sono stati danneggiati dal var sono state nello specifico soprattutto lazio crotone e bologna ma concentriamoci sull'udinese partiamo dal messaggero veneto abbiamo già visto la fotonotizia con angela caino un gol poi intrincea che vittoria a genova una vittoria vogliamo davvero a cui non eravamo più abituati l'udinese che ha saputo incassare linea magino piave chiamatela come volete dice pietro leotto fatto sta che l'udinese non è crollata sotto i colpi del grifone neppure in dieci e si è guadagnata un mese di febbraio all'insegna dell'europa perché ci saranno tre scontri diretti in questo febbraio se vogliamo leggerla in chiave lotta all'europa league si comincerà dal milan poi ci sarà il torino ma anche la sampdoria in nel giro di quattro giornate quindi un mese di febbraio tutto da seguire leggiamo i titoli prima di vedere anche le immagini della partita di ieri e il titolo richiama proprio sulla linea del piave non si passa vittoria gol di berami espulso samir il finale a lottare in trincea qui proprio l'immagine del mancino di berami che si infila alle spalle di di perin e fa gioire tutta l'udinese riprendiamo i primi le prime parole dell'articolo che abbiamo letto in precedenza con proprio l'europa che stuzzica si chiede pietro leotto un'esagerazione no alla squadra di oddo manca qualcosa sotto il profilo della qualità del gioco a centrocampo non ha impatto offensivo delle avversarie dirette ma un cuore grande come uno stadio ieri quello di marassi dove noi e danilo in particolare hanno orchestrato una resistenza degna di quella vista a san siro san siro poi finì in gloria con il 3 a 1 ma è gloria ugualmente anche vincendo 1 a 0 quindi ripercorriamo nel consueto servizio del post gara a quelle che sono state le emozioni e la bella vittoria dell'udinese sul genoa genoa e udinese si sfidano per trovare una vittoria la genoa per rispondere alla sconfitta contro la juventus in quel di torino l'udinese per trovare il primo successo del 2018 l'abbraccio tra oddo e ballardini l'abbraccio tra berami e pandev ex compagni di squadra anche insieme proprio a massimo oddo che rilancia proprio lo svizzero ma la partenza è vemente per il genoa che trova una doppia occasione sempre murati però i giocatori rosso blu su tutti la padula che si scontra con il muro difensivo dell'udinese splendida la diagonale di samir e poi l'intercetto di danilo che evita anche la parata di bizarri bizarri poi provvidenziale ad uscire fuori dalla propria area di rigore per agginare la padula oggi preferito a tarapt per affiancare goran pandev perde un attimo il contatto visivo con il pallone Gianluca la padula e si ritrova di fronte al bano bizarri ancora genoa in un primo tempo non interpretato molto bene dall'udinese che ritrovava anche kevin a lasagna in coppia con rodrigo depol spunto di omeonga cross tiro rabberciato di migliore che sostituisce l'acciaccato l'axalt la girata di pandev però non è precisa e finisce abbondantemente alta ancora il genoa che ci prova poco dopo con questo pallone recuperato con grande forza da Bertolacci il cross allontano a Noitink Izzo spara malissimo arriva poi Spogli diventa il miglior assist il tiro sbagliato dal difensore campano Spogli trova la deviazione determinante di Pezzella l'arbitro non riconoscerà il tocco di Pezzella quindi niente angolo le proteste dei rosso-blu un primo tempo che finisce inevitabilmente 0-0 non ci saranno cambi nell'immediato della ripresa finché non entra Maxi Lopez da una sua giocata scaturisce in vantaggio tiro rimpallato arriva con il mancino Berami che stava per uscire sul cubo dei cambi Emil Alfredson ma il bello del calcio arriva in questo momento con Berami che segna proprio un secondo prima della sua sostituzione gol dell'ex, gol pesante il primo in bianco-nero finora per lo Svizzero un recupero fondamentale lo era sulla carta, lo è anche sul campo quello del numero 85 che trafigge Perin sorpreso dal pallone che sbuca in mezzo a una selva di gambe come detto esce lo stesso Berami poi Samir va a trattenere Pandev cartellino giallo viene richiamato Pairetto dal VAR che è il signor Calvarese va a rivedere il fallo ravvisa un pestone sulla gamba di Goran Pandev che ha la cattiveria necessaria per essere configurabile come cartellino rosso ecco il gesto del VAR e Pairetto che va a sventolare il cartellino in faccia a Samir che non sarà quindi a disposizione di Massimo Oddo per la sfida casalinga contro il Milan che arriverà domenica prossima questa è la ripresa incriminata con Samir che morde la caviglia di Pandev per la squadra arbitrale cartellino rosso diretto partono 25 minuti di intensa sofferenza ci prova Pandev con una girata di testa che finisce praticamente in fallo laterale dall'altra parte poi ci sarà il disimpegno della difesa biancone era ben più pericoloso il colpo di testa di Galabinov Bizzarri battuto traversa del Bulgaro che è subentrato nel forcing del Genoa che aveva messo 4 punte Pandev, Tarab, Galabinov ma anche proprio lo stesso la padula la girata che si stampa sulla traversa del numero 16 rosso-blu ancora Genoa all'assedio dell'area dell'Udinese che tiene bene ancora un cross Rigoni incredibilmente da mezzo metro riesce a non segnare anche Rigoni era stato pescato dalla panchina al posto di Veloso qui grazie all'Udinese potrebbe essere la sua ultima partita al Genoa non sarà ricordato bene per questo errore torna alla vittoria all'Udinese che dopo due pareggi e una sconfitta si riprende il successo e sale a quota 32 punti in classifica il sorriso è d'obbligo se la ride Pezzella se la ride l'Udinese è una bella vittoria con la trincea proprio dopo l'espulsione di Samir l'ha detto Pietro Leotto nel suo articolo gli fa eco anche Antonio Simeoli che sottolinea la bellezza di quei giganti là dietro anche lo stesso Samir poi espulso se vogliamo anche in maniera tutto sommato se non ingiusta quanto meno esagerata ha tenuto benissimo ma ancora di più poi anche con l'ingresso di Angella quando c'è stato da soffrire quei tre lì dietro su tutti Danilo e Noitink hanno fatto grandissime cose l'uomo della giornata è Valon Berami con questa metafora cestistica un tiro da tre punti con nelle gambe solo due allenamenti Berami euforico per il ritorno in campo che porta alla vittoria Lasagna che pensa già al Milan vedremo disegnare anche al Friuli e anche in casa perché c'è bisogno di vincere anche la partita contro il Milan non sarà semplice dopo quello che abbiamo visto ieri anche la saracinesca Bizzarri che ha avuto sempre la sensazione che sarebbe stata vinta dalla squadra che sbloccava prima questa partita e così è stato alla fine il gol di Berami ha dato ragione all'Udinese trasferta anche per molti tifosi che non mancano mai in Liguria si sono fatti sentire con il coro classico la gente come noi non molla mai qui viene raccontata proprio la trasferta dei supporters bianconeri cori sofferenza e poi l'applauso agli eroi sotto la curva davvero un pomeriggio da ricordare qui vengono immortalati proprio i tifosi dell'Udinese allo stadio Ferraris e dobbiamo dire che si sono fatti sentire e rispettare in quello che è un catino bollente quello di Marassi nonostante non sia un ottimo momento per il Genoa ma i tifosi hanno sempre i decibel molto alti e si sono fatti rispettare quelli dell'Udinese vediamo cosa dice Bruno Pizzu nella rubrica La mia domenica tre punti con effetto traino non è certo il caso di inorgoglire più di tanto per la vittoria di Marassi contro un Genoa di poco spuntato ma non c'è nemmeno da ingigontire le negatività messe in luce da un Udinese che non ha disputato la sua miglior partita ma ci ha messo tanto cuore e spirito di sacrificio mi viene ancora una volta spontaneo di fare il parallelismo con quella che è stata la vittoria della Juventus sabato sera in molti l'hanno criticata perché 9 contro 11 contro il Chievo ha sofferto molto però poi alla fine chi vince ha sempre ragione in questo caso ha ragione l'Udinese sul Genoa Ballardini dice non meritavamo di perdere contro comunque una squadra forte era sorridente alla vigilia Ballardini non lo è stato al termine della partita recrimina sul risultato Ballardini e dice non meritavamo il Genoa ha giocato bene la sua partita contro una squadra forte come l'Udinese dimostrando di non essere da meno siamo destinati a tenere alta la concentrazione e l'attenzione fino alla fine Genoa che nella classifica è stato anche un po' risucchiato se così vogliamo dire in quella che sarà la lotta salvezza che coinvolgerà sicuramente anche il Genoa e anche Chievo e Sassuolo non stanno tranquilli la curiosità come abbiamo fatto notare ieri nel corso di studio e stadio Samir Bertolacci Rossi fotocopia come era stato espulso Bertolacci all'andata è stato espulso al ritorno Samir che mancherà quindi contro il Milan andiamo interrompiamo per un attimo la nostra analisi dei quotidiani sportivi torneremo a breve sull'Udinese ancora con parole dei protagonisti per andare nella centrale operativa della Polizia Municipale con il Vice Ispettore Francesca Silvestri per farci informare un po' della situazione del traffico cittadino anche vista un po' l'intensa nebbia di questi minuti buongiorno buongiorno allora sì mi allaccio un attimo al discorso della nebbia si raccomanda chiaramente di aumentare la distanza di sicurezza di diminuire la velocità quando la visibilità è ridotta e poi per quanto riguarda invece i lavori in corso nelle vie della città c'è da segnalare via Zuglio dove abbiamo una chiusura eccetto per i frontisti in quanto ci sono dei rilacciamenti di gas e poi in Vicolo San Giorgio è chiuso oggi e domani per lavori di acquedotto vice ispettore Francesca Silvestri per queste informazioni su quelle che sono le zone su cui avere maggiore attenzione e anche proprio aumentare la distanza di sicurezza per nebbia lo sappiamo per esperienza personale perché per arrivare in studio in centro si vedeva ben poco quindi piano piano si arriva senza rischiare nulla torniamo sui quotidiani sportivi con le pagelle che premiano lo avevamo capito anche un po' dagli articoli ma è una lettura più che giusta Noitink e Danilo i migliori in campo di questa partita prendono entrambi 7 6 e mezzo per Bizarri 6 gli viene tolto un voto per l'espulsione questa è la spiegazione nelle pagelle del messaggero veneto poi molti 6 Larsen Fofanai Ancto Pezzella 6 e mezzo per Berami che purtroppo non arriva al 7 nonostante il gol vittoria ma diciamo che l'avrebbe meritato anche per la sua partita di grande dedizione l'unica nota stonata come si leggeva nel titolo è De Paul che prende 5,5 poi 6 anche per i subentrati e Kevin Lasagna voti sicuramente più bassi nel Genoa il migliore espoi 6 e mezzo versione muro tante tante le insufficienze gravi per Izzo Tarabt e Rigoni che ha sulla coscienza quel gol incredibile sbagliato a davvero 20 centimetri dalla linea di porta che è stata sicuramente la buona buonissima dose di fortuna che ha avuto ieri Ludinese ma per vincere ci vuole anche quello si punta a recuperare Widmer contro il Milan domani pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti oggi quindi squadra che riposa occhi puntati inevitabilmente sulla situazione fisica di Silvan Widmer che dei giocatori di infermeria e per fortuna adesso sono rimasti praticamente soltanto lui ed Ali Adnan è quello più vicino al rientro poi Oddo che dice la sfuriata è servita ha parlato di una sfuriata davvero molto intensa negli spogliatoi lo hanno confermato anche i giocatori Oddo racconta il suo match intervallo da duro compreso si è rischiato qualche omicidio nell'intervallo la tensione si scioglie con questa battuta di Massimo Oddo poi un calcio alla paura a che senso averla a che senso ha averla appunto se la classifica è più che buona è l'interrogativo di Oddo e poi sul sogno europeo pensiamo a fare 40 punti cresciamo in mentalità poi si vedrà un Oddo che è consapevole che la soglia salvezza bene o male nonostante dietro siano correndo può abbassarsi lo ha detto in sbagliate conferenze ma il primo obiettivo stagionale sono quei 40 punti che non sono nemmeno troppo lontani sentiamo le parole di Massimo Oddo nella mix zone dello stadio Ferraris sentiamo come l'ha analizzata e oggi abbiamo visto i due volti di questi ragazzi il primo tempo pessimo da squadra intimorita che ha paura di giocare che ha paura di fare tutto e allora pur di non sbagliare alza la palla va indietro al portiere poi nel secondo tempo quanto meno abbiamo fatto 45 minuti di sofferenza sì ma da squadra abbiamo saputo soffrire siamo stati cinici nel colpire non è stata una bella partita ma questo era l'avevo preventivato in conferenza stampa una partita molto tattica il campo pessimo bruttissimo era anche difficile anche oggi continuava il nostro leggero momento di difficoltà di non grande brillantezza però come ho detto ai ragazzi in questi momenti si vengono fuori i giocatori importanti vengono fuori i giocatori che vogliono ambire alle grandi squadre cioè quello di saper soffrire e saper nei momenti soprattutto nei momenti di difficoltà e il secondo tempo è stato la dimostrazione che questi ragazzi comunque hanno nelle corde queste caratteristiche ma lo devono fare sempre prima infatti riflettevamo proprio con con Kevin Lasagna della grande abnegazione difensiva anche di chi gioca ben lontano dalla difesa proprio perché c'era bisogno di tutti c'era bisogno di dare una mano un bel segnale da parte di tutta la squadra di tutto il gruppo nel provare a strappare via tre punti in una partita che effettivamente poi tecnicamente non è stata eccelsa ma è così lo fa la Juve che ha grandissimi giocatori che si compatta sotto linea la palla soffre perché non deve farlo di nese ci mancherebbe se vogliamo portare via punti importanti da uno stadio come questo se vogliamo fare cose importanti dobbiamo farlo di squadra perché non abbiamo campioni non abbiamo fenomeni che ti risolvano le partite da sole quello che ci guadagniamo ce lo dobbiamo guadagnare da squadra e fin quando facciamo queste prestazioni poi puoi anche pareggiare puoi non vincere la partita però questo spirito ci vuole ci vuole sempre oggi è andata bene ma non è andata bene per caso è andata bene perché nel secondo tempo la squadra è stata squadra sempre precisa l'analisi di Oddo è più che mai condivisibile è andata bene ma perché la squadra lo ha voluto alla fine è detto la fortuna aiuta i Odaci ci sta anche in questo caso facciamo un piccolo break dall'Udinese andiamo a parlare di Pordenone e anche di altre tematiche prima di riprendere il discorso della squadra bianconera con il Pordenone che è in netta crisi un digiuno record nel girone non vince dal 26 novembre quel 3 a 2 contro il Vicenza ma lo visa punta ancora sul mister Colucci non basta per ora l'impegno dei nuovi arrivati questa la reazione dopo l'1-1 contro il Bassano si parla ancora di mercato resta da piazzare Buratto il più nero-verde di tutti in questo gruppo che sta subendo anche degli stravolgimenti sul mercato e poi un focus sulla lotta playoff dove le avversarie sono Mestre e Triestina Ramarri tornati in zona spareggi con questo 1 a 1 ma occhio alle due avversarie di fronte lunedì prossimo allo stadio Nereo Rocco questo è il momento difficile del Pordenone che proverà a rialzarsi e a guadagnare qualche posizione in classifica chi ieri ci ha sorpreso purtroppo molto in negativo è stata la GSA una domenica nera una GSA definita horror dal messaggero Veneto Benevelli K.O. la notizia che è ulteriormente cattiva Lapu gioca una partita inguardabile con Ravenna e perde la sua ala che si rompe un polso davvero una brutta brutta partita per la GSA che deve resettare tutto subito non c'è altra via d'uscita se si buca una partita così dimenticare il risultato ma non la prestazione stiamo rivedendo anche quelli che sono stati alcuni dei canestri della giornata di ieri c'è stato davvero niente da fare perché ci ha provato la GSA ma non è stata mai e poi mai in partita Lardo ha detto ci alleniamo male ed ecco qua il risultato il coach durissimo con i suoi il presidente Pedone ha detto siamo entrati in campo molli le parole anche di Busciati all'esordio bisogna voltare subito pagina gli fa Eco Raspino che va a chiedere scusa ai tifosi arrivati non a Ravenna poi perché si è giocato a Faenza ma comunque arrivati in trasferta sono stati anche gli ultimi ad arrendersi come leggiamo proprio dal trafiletto dedicato ai tifosi che ci hanno provato a sostenere la squadra fino in fondo le parole anche del nostro amico Davide Mikalic la peggiore a più dell'anno è abbastanza chiaro e poi ha aggiunto un così non va se Udine piange Trieste non ride che ha perso a Imola ma è un contentino diciamo così da poco per Udine che deve interrogarsi su quanto successo e ripartire noi ripartiamo anche dal collegamento in esterna siamo pronti a spostarci nell'edicola a Cussignacco dove ci attende David Zanirato insieme a Gigi Danzilli buongiorno buongiorno a te Stefano buongiorno a tutti i nostri telespettatori da Cussignacco siamo pronti anche questo lunedì ad analizzare il fine settimana calcistico in regione non solo e a tal proposito partiamo proprio dalla vittoria dell'Udinese a Genova una vittoria di carattere di cuore con i ragazzi di Mister Roddo che alla fine hanno portato via i tre punti beh devo dire che ieri è stata una gran vittoria perché come si era visto lunedì il Genova non era una squadra da sottovalutare si è visto che con la Juve che aveva fatto una gran partita e anche ieri ha dimostrato di essere una squadra che gioca molto bene al calcio ed è stata giocata una partita a viso aperta da entrambe le squadre e diciamo che l'Udinese era una partita da pareggio poi riuscì a trovare il gol con Berami purtroppo dopo l'espulsione di Samir sono stati gli ultimi 20 minuti veramente di sofferenza pura e diciamo una grande prova di carattere dei ragazzi un po' di fortuna perché in questi casi ci vuole anche quella e sono riusciti a portare a casa i tre punti perché sono stati oro diciamo che è una partita come quella di ieri che onestamente probabilmente forse era anche più giusto il pareggio però contano i tre punti ieri ci sono stati ecco e ora arriverà il Milan Aurini è un Milan in salute ieri vedendo la partita ha fatto un grandissimo primo tempo però nel secondo tempo è calato vistosamente è una squadra che giocherà a viso aperto a Udine quindi ci potrà essere secondo me un risultato da tripla domenica Milan è una squadra molto forte avrà un grandissimo possesso palla perché ha dei giocatori tecnici però secondo me dietro concede tanto fa degli errori anche abbastanza clamorosi e lì l'udinese dovrà essere abile dunque a sfruttare queste opportunità per il momento con Gigi ci fermiamo qui poi con lui ci ritroveremo naturalmente per i voti promossi e i bocciati dei dilettanti di questo fine settimana ma non solo a te Stefano a tra poco grazie mille a voi per questa ulteriore analisi su Genova Udinese anche qui molto precisa e puntuale partita che si è giocata proprio sul filo del pareggio rotta poi dal gol di Berami un'udinese che forse ha voluto questa vittoria leggermente di più poi l'espulsione ha rivisto un po' quello che è stato il copione della partita approfondiamo proprio la sbandata dell'alma lo dice il piccolo di Trieste fuori strada a Imola la squadra ancora capolista prigionieri delle proprie paure i biancorossi si fanno ancora beffare e in volata come a Forlì c'è stata anche la dura reazione di Mauro nel dopo partita che ha detto cancello il mercato si parla anche della Triestina unione in caduta ora tocca a Sannino la squadra gioca ma sul campo non raccoglie con il mestre ultimo appello questo per quanto riguarda la situazione sportiva in terra giuliana poi andiamo ad approfondire sul gazzettino le tematiche del Pordenone che non molla dice proprio il gazzettino malgrado una media punti da play out i neroverdi restano ancora vicini ai play off è vedere il bicchiere mezzo pieno certamente ma siamo certi che in casa neroverde stiano già pensando ai correttivi per rialzarsi anche le dirette avversarie non corrano questa è la buona notizia ma ora serve una reazione e qualche vittoria questo dice sempre il gazzettino che poi parla dell'Udinese che rinasce in quel di Genoa dopo un primo tempo di sofferenza la reazione e il gol di Valon Berami questo è successo nella partita del Ferraris meritatissima ancora una volta la foto dei tifosi dell'Udinese che festeggiano i propri ragazzi che hanno vinto una partita tosta Oddo promuove solo l'Udinese della ripresa nel primo tempo squadra lenta slegata intimorita confesso che all'intervallo si è rischiato qualche omicidio nei secondi 45 minuti abbiamo lottato uniti e meritato la vittoria anche questo deve fare comunque un allenatore sapere quando come si dice usare la carota usare il bastone l'Udinese del primo tempo non lo aveva soddisfatto sull'espulsione di Samir è stato chiaro mi fido ciecamente del VAR il fallo commesso da dietro andava sanzionato questo ha detto Oddo molto onesto molto corretto ne riparleremo in una seconda parte in cui ci sarà tanto da discutere sul VAR alla sua prima vera domenica nera in cui gli interrogativi ma anche più di interrogativi sono stati davvero tanti soprattutto a Crotone Berami torna al gol dopo dieci anni sono doppiamente felice questo ha detto Valon Berami che si è tolto questa gioia segna poco ma di solito fa gol pesanti se lo ricordano in Svizzera se lo ricordano i tifosi della Lazio e ora se lo ricorderanno anche i tifosi dell'Udinese Pordenone voglia di vincere ce l'hanno i tifosi che non vedono trionfare la squadra dal 24 novembre ne hanno voglia tecnico e giocatori Corucci parla dei nuovi arrivati che devono integrarsi ma se avessimo chiuso in vantaggio il primo tempo sarebbe stata un'altra gara ottimista anche Bombaggi dopo Pordenone Bassano ci sono stati segnali di crescita rispetto alla partita con il Fano adesso pensiamo ad andare a Teramo mentre Buratto è di troppo e la valigia è pronta questo per quanto riguarda il Gazzettino siamo praticamente in chiusura della seconda parte chiedo conferma alla regia a questo punto potremmo andare in fascia pubblicitaria e poi riaggiornarci per la prossima parte insieme per approfondire quello che c'è da sapere tanto sul calcio italiano per continuare anche a parlare di Udinese e anche per le previsioni meteo che sentiremo proprio a inizio della prossima parte rimanete lì con noi grazie a tutti